Siamo a Parcadoro, che è un nuovo campo mitili che è stato messo. E quindi con l'ASL Napoli 2 stiamo facendo il monitoraggio e quindi la classificazione di questo senso app, per vedere in che tipo di zona è. Prevede un monitoraggio di 12 campioni, quindi ogni 15 giorni facciamo un campione di questi prodotti per vedere le analisi rumescola. Quindi diciamo che siamo in questo controllo sanitario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.